Ciao a tutti ragazzi, sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft E come vedete mi trovo all'interno di una cella Oh mio Dio, chi mi ha arrestato? Eh, chi è stato? Non ho fatto niente, sono un innocente Lo giuro, lo so, ho ucciso per la faccia tante volte nelle murder mystery Ma era soltanto un gioco Comunque ragazzi, come vedete, sono all'interno di una prigione E dobbiamo trovare un modo per uscire da qua dentro Utilizzando il mio gran cervellone Sì, 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 avete capito bene, sono una persona molto intelligente Quindi riusciremo sicuramente ad uscire Beh, ecco, perfetto, abbiamo già rotto qualcosa Questo quadro nascondeva dei blocchi semirotti Questi qua secondo me li posso rompere Allora, dobbiamo... Oh, fantastico Bastone della scopa Perfetto, dobbiamo perlustrare tutto quanto Posso dormire? Ah, posso dormire Forse mi fa uscire adesso fuori dalla mappa Vediamo se mi fa uscire dalla cella direttamente così No, non ha funzionato Ok, bastone, bastone Questo bastone lo posso usare per... Forse per indebolire queste barre, no? Questo qua è molto sospetto Mi sa che dovremmo uscire da qua Ci deve essere tipo un condotto Questo è scavato C'è qualcosa qua Cosa c'è? Tipo un pulsante, una leva, una cesta Cosa c'è? No, non voglio dormire Dobbiamo trovare quello che c'è qua dentro Abbiamo trovato un tagliatubo Ok Fantastico Quindi tipo delle cesoie E questo? Oh mio Dio! Ok Che cosa c'è qua dentro? Crowbar Non so che cosa sia Però sicuramente ci si può servire Ok, ci abbiamo tre utensili adesso ragazzi Tre utensili che... Beh, uno di questi romperà le sbarre, no? Questo però non si muove Forse li devo mettere qua dentro? No Ok Abbiamo trovato un rock hammer Un martello da pietra Martello di pietra Martello da pietra Devo rompere questi for... Sì, 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 ok Rompiamo questo Oh, questi sono dei tubi Quindi utilizziamo il rompitubi Dobbiamo accertarci che la polizia non ci stia guardando Ma io credo che le guardie Siano tutti quanti a dormire Sì, sì, ne sono abbastanza sicuro Siamo sicuri? Ok Non sono sicuro di dover scendere qua giù Perché se sbaglio poi sono fregato Però qua mi sa che non c'è nient'altro Fatemi dare un'occhiata che non si sa mai Vuoto Vuoto Uh, da questo lato? Vuoto Ok, secondo me questa è la via Ragazzi, dobbiamo andare di qua Bam Piano piano, senza farci sentire Stiamo scappando Se facciamo del rumore Ci sentono tutti Siamo nelle fogne C'è qualcosa qua nelle fogne? A parte l'acqua schifosa e le tartarughe ninja Qua ci sono delle altre sbarre Delle grate Oh, quella è aperta Andiamo di là Che schifo nuotare all'interno delle fogne Uffa, non potevano mettere, non lo so, una bella passerella Che cosa c'è qua? Nulla Fino ad ora non ho trovato neanche un oggetto Che mi permetteva di rompere le sbarre della prigione Quindi tutte queste sbarre non le posso rompere Sento del fuoco Sentite anche voi, c'è del fuoco da questo lato Ok, devo andare da quel lato probabilmente Ma qua è chiuso E come faccio? Mi sa che ho sbagliato strada ragazzi No, è questo? Martello? Ok, il martello riesce a romperlo Vai, rompi, 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 rompi Uscire vivo da qua Ok Ce l'ho fatta, dove mi trovo? Cos'è questo posto? Armadio delle cose Sistema di ventilazione Oh, ho capito Ascensore fuori uso Ah, ok, perfetto Penso di dover fare tipo una specie di parkour No Ok, nel generatore Devo attivare quelle? No C'è qualcosa qua Oh No, non penso mi servono a nulla Forse devo cambiare queste Vediamo, magari è tipo un meccanismo Oh, ma qua Guardate Questo si può rompere Oh Ehm Cavolo Cos'è questa? Della sabbia? Mi si è rotto il piccone Adesso come faccio? Qua dietro? Niente ragazzi Ci dobbiamo dare una mossa Perché tranno molto le guardie Si accorgeranno che sono scappato di prigione Qua ci posso salire? Oh, che cos'è questa? La leva per il generatore Ok Ok, con questo dovremmo dare potenza al generatore Che se non sbaglio è questo Esatto Bam Ha aperto una porta Piccone Ok, perfetto C'è qualcos'altro che mi può servire? No, è vuoto Però Oh, no, 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 no Qua Cosa ho aperto? Ho aperto qualcosa Ok, non vedo nient'altro qui Ho aperto questa porta qua Che contiene una pala Perfetto Ho capito ragazzi Allora col piccone Devo rompere questo E con la pala Devo andare avanti qua Oh mio dio ragazzi Ma chi è che ha creato questo piano di fuga? È fantastico Vabbè Scava, scava, scava Tra non molto si rompe la pala Oh mamma mia Devo essere veloce Non si è rotto Non si è rotto Abbiamo ancora il piccone Per fortuna ragazzi Che c'ho un cervellone gigante Questo qua credo sia L'ascensore di prima Fuori uso Perché come vedete È rotto La pala non ce l'ho più Quindi questo qua Non lo posso togliere Sicuramente Allora mi sa che devo salire da qua Sì Devo salire dall'impalcatura Quanto sono belle le impalcature Dell'1.13 Se non sbaglio O 1.13 O 1.14 Mi sa che devo entrare qua Allora con questo Lo posso rompere Giusto? No con questo Ok ok Bam Ok siamo dentro l'ascensore ragazzi Ce l'abbiamo fatta Eh sì infatti L'ascensore è ancora rotto E questo Oh L'ufficio del guardiano Oh mio dio ragazzi Guardate Per fortuna che non c'è Si starà facendo tipo Un pisolino Una siesta Non lo so Qua Questo sicuramente fa qualcosa No Mi sbagliavo Questo? I quadri ragazzi Vanno tolti tutti quanti Oh Stanza segreta? Ma come faccio ad aprirla? Ci deve essere tipo Qualcosa Un meccanismo nascosto forse? Ok andiamo a dare un'occhiata al resto Biblioteca Anche questo tutto chiuso Oh Qua ci sono le celle Questo non ho la minima idea Di che cosa sia Penso sia per uscire di fuori Quindi dobbiamo andare là assolutamente La caffetteria La cucina È permesso? Si può aprire per favore? Vorrei un panino Eh vabbè mi sa che è chiusa No Perché non si rompe? Come? Prima ha funzionato Quando ero in cella Ha funzionato Ho rotto il vetro Forse ne posso rompere solo uno Questo? No Non va Ok utilizziamo l'intuito Fino ad ora l'unica porta aperta è questa Quindi ci deve essere un altro segreto Provo a prendere il fiore No Oh Ok Ho aperto le porte Però Devo attivare questa torcia adesso No Questo non lo posso prendere però Molto strano che non lo posso togliere Dal item frame La pedana No Niente Oh Che ho visto? È un pulsante? Oh Cosa? Non ci credo ragazzi Il guardiano c'è un passaggio segreto All'interno del suo ufficio E qua che cosa c'abbiamo? Fuori servizio Ci sono tante leve È una combinazione per caso Si è accesa la luce Si è accesa la luce Eh di questo non si è accesa però Perché? Mi sa che è un Mi sa che è una combinazione Andiamo a dare un'occhiata Vediamo che ho fatto Oh ecco perfetto Si sono aperte le celle Qua si è aperta la stanza Della biblioteca Nella biblioteca Sembrerebbe che non ci sia nulla Questo non lo posso rompere Ci sono delle trapdoor strane però Delle botole strane Eh no perché me ne accorgerei no? Sì lo vedrei sicuramente Se ci fosse qualcosa Ok andiamo a dare un'occhiata al resto Questo è chiuso ancora Questo è ancora chiuso Oh Questi due sono aperti Caffetteria e cucina In cucina troverò sicuramente qualcosa Oh mal che vada Comunque trovo qualcosa da mangiare Oh mio dio ragazzi Qua la cosa è ancora più difficile di prima Ci deve essere qualcosa in nascosto Altrimenti non mettevano tutto in questo modo Oh ecco Vuoto anche questo? Devo entrare qua dentro forse? Vai Fammi Fammi diventare piccolo Ok No non mi fa entrare Diamo un'occhiata alla caffetteria È la nostra ultima spiaggia ragazzi Io abbasso tutte le botole Tutte quante ora le abbasso Dobbiamo riuscire a trovare la via di uscita ragazzi Questi non si rompono no? No Eh no Oh È questo? Una leva La leva per la biblioteca Ok Fantastico Aspetta cosa c'era nella biblioteca? Ah c'è una porta Sì 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 Quindi mettiamo questa e apre la porta Giusto? Dove la posiziono? No? Library storage power È questo? Ok Ho aperto la porta? Sì l'ho aperta! Con Un'altra leva per il recreation yard Esatto Bam Recreation yard Si è aperta la porta del giardino da ricreazione Ok Non siamo ancora fuori dalla prigione ragazzi Ma siamo molto vicini E nessuno ci ha beccato Ah perfetto Ok qua ci sono dei blocchi rotti Quindi presumo che io devo romperli col piccone Eh no Eh no Aspetta Se si è rotto il piccone Posso romperli così? No No Oddio ma si doveva rompere il piccone? Ragazzi mi sa che ho buggato tipo la mappa Mi sa che il piccone non si doveva rompere adesso Si doveva rompere dopo Non appena rompevo tutti questi blocchi qua Magari non si è buggata C'è un altro piccone qua da qualche parte Ci deve essere sicuramente una spiegazione Si 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 ne sono sicuro Vuoto Vuoi vedere che il guardiano C'ha un piccone nascosto da qualche parte? Questa cesta l'ho aperta? Si Ehm Ragazzi Sono giunto alla conclusione che Ho buggato la mappa Credo che il piccone non si dovesse rompere al primo blocco Bensì non appena arrivavo là Quindi adesso mi do un piccone io Un piccone che può rompere questi blocchi Ho cercato il comando su google Bam Questo teoricamente dovrebbe farcela Vediamo Si ok perfetto Come vedete non rompe nessun altro blocco Rompe solo questi Eh vabbè Capita Non siamo tutti perfetti Scusate Ho sbagliato Poi non è detto Magari non ho sbagliato Magari era buggata Oh Si è aperto una porta Dove siamo? Un garage Treta J 274 Poi che cosa ci abbiamo? On Off Security system Oh Il sistema di sicurezza Ma io non posso abbassarmi e passare qua in mezzo? No mi serve un blocco che mi aiuti ad abbassarmi quindi non ce la faccio Qui c'è qualcosa in nascosto per caso Oh abbassiamole tutte perché non si sa mai No niente Oh i pulsanti ecco No questo non lo posso rompere Però qua c'è qualcosa sicuramente Aspetta qual'era quello che rompeva le grate? Questo? No? 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 Ah ma è una cesta Con una leva Per togliere il sistema di sicurezza Bam! Off Che cosa si è aperto qua? E questo è per aprire la porta del camioncino Ok 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 Dove lo devo piazzare? Ah qua ecco infatti Vabbè sono stupido Ok Oh mio dio si è aperto il garage Vai 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 parti Scappiamo Siamo riusciti a scappare di prigione ragazzi Manca tanto così Speriamo soltanto che Oh finito Stavo per dire Speriamo che la polizia non se ne accorga E questo è tutto l'oro che ho rubato Ah ecco perché ero finito in prigione Eh sì adesso ha senso Vuoi vedere che però c'è tipo un easter egg E posso uscire anche da qua Forse devo trovare un modo per uscire anche da qua Tanto ormai col mio super cervellone riesco a uscire da tutte le parti No vabbè Credo che la mappa sia finita Ragazzi mi raccomando lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto questo video Dal vostro Kendall è tutto E noi ci vediamo domani con un prossimo video Ciao